Sul neutro del Leonardo Petruzzi di città Sant'Angelo, l'Elicesi ospita la capolista città di Teramo, orfana dei navigati Pepe Ferraioli. Solo 15 punti per i padroni di casa, costretti a muovere la classifica per raggiungere una salvezza che attualmente sembra destinata a dover passare dai play-out. I biancorossi invece vogliono consolidare il primato di tre lunghezze sulla Turris, che domenica scorsa è impattato per 1-1 proprio contro l'Elicesi. Dirige Luca Di Monte Odorizio di Vasto. La partita inizia con il classico studio, con il Teramo che inizia ad alzare i giri del motore solo dopo il ventesimo. Retropassaggio rischioso di Speranza, si inserisce Busiello, Bozzi è bravo nell'uscita bassa. L'azione prosegue, Dincecco va a qualche centimetro al vantaggio, una conclusione dal limite. Al quarto d'ora protesta levemente il Teramo per un incrocio all'interno dell'area di rigore, tra Petra Rullo e un difensore. Il direttore di gara lascia correre. Palumbo al minuto 22 si divora un rigore in movimento, blocca Capuccini che è bravo anche sul tiro cross del numero 10, direttamente da calcio di punizione. Sul finire di primo tempo, Palumbo batte un corner verso l'area di rigore, e sponda di Speranza a favorire la testa di Furlan sotto porta. Capuccini attento. Con le immagini di mano il centurame passiamo ai secondi 45 minuti. Protesta l'Elicesi al dodicesimo per un atterramento su Dincecco, che il direttore di gara giudica fuori area. Sulla conseguente battuta una deviazione spaventa Bozzi, ma il pallone si spegne a lato. Passano appena 5 minuti e Palumbo sblocca il match con una protezza, direttamente da calcio di punizione. Capuccini non può nulla sulla pennellata scavalcare la barriera del fantasista bianco-rosso. L'Elicesi prova a riacciuffarla, ma al primo ribaltamento di fronte il Teramo colpisce per la seconda volta. De Giglio serve di Giacomo, che dalla linea di fondo confeziona Rimorco per Farindolini, che fa 2-0. Il diavolo amministra. De Giglio prova a chiudere i giochi per ben due volte, ma non trova la gioia personale. Nel finale si alza il nervosismo, ma il Petruzzi di Città Sant'Angelo finisce così. Teramo batte l'Icesi 2-0 e vola più 6 sulla Turris, sconfitta al Fonte dell'Olmo in casa della Rosetana, prossimo avversario della truppa teramana. Sì, inizialmente non è stata una buona partita nostra, soprattutto i primi dieci minuti. Abbiamo rischiato anche di prendere gol, però su un errore di Ivan che ci può stare. Poi però, secondo me, dopo il quarto d'ora abbiamo iniziato a giocare, abbiamo iniziato a creare occasioni. È vero che il campo non ci ha già volato, però a differenza del secondo tempo, il primo tempo eravamo un po' troppo frenetici. Poi nel secondo tempo siamo stati bravi a sbloccare la partita e poi, come in tutte le partite, una volta che la partita si sblocca e la squadra avversaria si apre. Perché giocare con una squadra organizzata che ti si chiude dietro, ti lascia pochi spazi, non è facile. Però dovevamo essere un po' più cattivi sotto porta, soprattutto che al primo tempo. Lì perché due o tre occasioni ne abbiamo avuto per fare gol. Però poi, fortunatamente, è stato bravo Coco Palumbo a fare gol su punizione e poi è venuto fuori nostra forza. Ma guarda, io sinceramente, ragazzi, a parte i primi dieci minuti, non ho detto che stiamo facendo male. Perché secondo me stiamo facendo non il solito termo, però è anche vero che anche le condizioni del campo non ci hanno agevolato. Poi dovevamo essere bravi e lucidi nel fare gol sotto porta perché le occasioni ci capitavano, come si è capitato nel primo tempo. Poi, come sempre, una volta che riusciamo a sbloccare la gara noi, la squadra avversaria giustamente si deve aprire e poi lì, nei spazi ampi, la nostra qualità esce fuori. Non lo so, non mi interessa sinceramente di quello che ha fatto la Tour, sono contento, però noi dobbiamo pensare a noi. Dobbiamo pensare a noi stessi perché io oggi, ragazzi, prima della partita, sinceramente, gli ho detto che in settimana mi sono riguardato la partita dell'andata con l'Elicese. eravamo in 13. Adesso sembra tutto facile. Io gli ho detto, ragazzi, non ci scordiamo il 5 settembre, dove siamo partiti, come eravamo. Quindi ho detto, noi, siccome abbiamo sofferto all'inizio perché non era facile, non era facile. Adesso si parla di un termo troppo forte, che deve vincere per forza il campionato, che è la favoritissima, però non ci scordiamo due mesi fa, tre mesi fa dove eravamo. Siccome ancora non abbiamo fatto nulla, dobbiamo essere concentrati e cattivi sempre ogni partita, perché contro di noi tutte le squadre, come avete visto oggi, giustamente faranno la partita della vita. Noi, fin quando non ci sarà la matematica, noi siamo il termo, dobbiamo fare il termo a tutte le partite. È un virus intestinale, ho mal di pancia, ho già iniziato la partita, stava male, non stava bene, infatti oggi non era il solito Alessio, l'ho voluto togliere perché non stava bene, forse ho anche un po' di febbre adesso. Cangemi si è fatto male al dito, sinceramente pensavo uscisse, poi fortunatamente sono stati bravi anche il fisioterapista e la dottoressa a rimettere tutto a posto, perché si era avuto una flottura al dito. Pare che è normale di fare degli accertamenti, pare però che non sia niente di grave. Vabbè, è chiaro, contro un avversario del genere era difficile, lo sapevamo, con un pizzichino di fortuna in più, forse come l'è andata, poteva fare morale. Però se vi dicessi, io sono orgogliosissimo di questi ragazzi, se vi dicessi in che condizioni si allenano, come ci alleniamo, ogni domenica ne perdiamo uno. Oggi abbiamo perso, purtroppo per un lutto, anche un giocatore bravissimo di categoria che nel Teramo giocherebbe sicuro, quindi va bene, va bene, pazienza, ma va bene. No, con la soddisfazione mi perdoni, non ci faccio niente, perché non mi porta punti. Il Teramo è una squadra che, l'ho sempre detto, in questa categoria non c'entra niente e lo ha dimostrato anche oggi, soprattutto poi con i cambi, perché loro sono molto lunghi, a differenza di tutte le altre squadre del girone. Si deve giocare sempre come abbiamo giocato oggi, come abbiamo giocato la domenica prima, come abbiamo giocato ancora la domenica prima, come abbiamo giocato anche a Favale, nonostante il 4-0, forse un po' troppo severo e bugiardo. Quindi, ripeto, io sono contentissimo della mia squadra, dei miei giocatori. Alla fine sono convinto che con questa cattiveria, con questa voglia soprattutto, perché vi posso assicurare che non è facile allenarsi alle 7 di sera, molto spesso su un campo a 8, calciotto in sintetico, se non lo sapete ve lo dico io, perché quando piove, quando le condizioni del terreno, allenandoci su un campo in erba naturale, non ci viene concesso. Sono felicissimo e si vede anche dal mio sorriso.